Il caso scuccato è destinato a inseguire il sindaco di Bassano Elena Pavan ancora per molto tempo. Si sta infatti avvicinando il momento in cui il sindaco dovrà dare spiegazione alla città come risposta all'interpellanza presentata dalle opposizioni in Consiglio Comunale. Consiglio Comunale non convocato da fine dicembre e che ritornerà al lavoro dopo una pausa record voluta dalla maggioranza solo il 3 marzo, una cosa dir poco politicamente singolare, due mesi e mezzo senza lavorare in aula. L'ex sindaco di Pozzoleone, Giada Scuccato, infatti è stata assunta dopo una richiesta fatta dal sindaco Pavan il 30 dicembre 2019. Il tempo di un battito di ciglia e dopo pochi giorni la Scuccato era già al lavoro nello staff dello stesso sindaco. Due le criticità segnalate dalle opposizioni. La prima, che aveva evidenziato proprio Rete Veneta, è che la motivazione dell'assunzione era legata l'elezione del sindaco Pavan al direttivo dell'Anci. Solo che il sindaco al direttivo nazionale dell'Anci non è in realtà mai stata eletta, ma solo al Consiglio, cosa ben diversa. Secondo punto critico, fanno presenti alle opposizioni anche la legge fondamentale del pubblico impiego, che vieta l'assunzione di personale dirigente o direttivo con somministrazione di lavoro interinale. E la Scuccato è stata assunta proprio in categoria di ispettore direttivo con contratto interinale. Insomma, una vicenda che dovrà chiarire, ma che promette di essere lunga in qualsiasi caso.